Una corsa contro il tempo e ieri anche contro le avverse condizioni meteorologiche con un brusco calo delle temperature e la neve tornata a cadere copiosa sopra i 1.400 metri di quota. Decine di soccorritori impegnati domenica fino al calare del buio, con le ricerche che sono riprese questa mattina per riportare a casa Andrea Marchesini, 53 anni, residente a Puntelambro, nel Comasco. Era partito sabato per un'escursione sopra gli alpeggi di Premana ad accompagnare il suo cane Tito, uno spinone di grossa taglia, ma dell'uomo sembra essersi perso a ogni traccia, dopo il mancato rientro e il ritrovamento della sua auto intorno a mezzogiorno di ieri in Val Varrone, in località Piazza, dove partono i sentieri per raggiungere gli alpeggi di Premaniga, Solino, Piancalada, Deleguaggio. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, diffusa anche la fotografia dell'escursionista e del Segugio, da cui non si separava mai, nella speranza che chi nel fine settimana è salito nelle baite della zona possa averlo visto. In azione gli uomini del soccorso alpino della Vassassina, insieme a squadre dei Vigili del Fuoco, gli operatori del nucleo alpino fluviale di Milano e uno specialista di topografia, oltre ai cani molecolari. In volo anche gli elicotteri di Areo e della Guardia di Finanza, quest'ultimo dotato del sistema IMSI Catcher, che consente di intercettare telefoni cellulari. Una domenica difficile sulle cime lecchesi, portati in salvo due alpinisti bergamaschi di 28 e 29 anni e rimasti bloccati a 2.000 metri di quota sulla Cresta Sigantini, in grigna meridionale, a causa della neve e del ghiaccio. Erano ben attrezzati, ma a causa del repentino cambio delle condizioni meteo si sono trovati in difficoltà. I due ragazzi sono stati raggiunti, valutati dall'equip medica, recuperati e trasportati al bione. In queste ultime ore, spiega il soccorso alpino, si sono verificate precipitazioni e in quota c'è neve. Ci sono stati altri interventi dovuti al cambiamento delle caratteristiche del terreno. Prima di percorrere certi itinerari in quota è necessario informarsi bene e valutare l'esposizione dei versanti a norte e dei sentieri in cresta, perché alcuni tratti presentano neve o ghiaccio e richiedono, per essere percorsi, ramponi e piccozza da avere con l'equipaggiamento necessario. Chiedete agli esperti dalla montagna prima di partire.